Bentornati su TrainFamiglia, io sono Enrico e oggi torniamo all'Olandia per Halloween. Halloween all'Olandia termina il 3 novembre. Se pensate di andare in settimana ricordatevi che non tutti gli spettacoli saranno attivi. Mentre il sabato e la domenica considerate code all'ingresso in auto e anche code nelle giostre e negli spettacoli. Complice il tempo non troppo freddo e un Halloween non pauroso quindi perfetto anche per i bambini più piccoli, l'Olandia attira molta gente in questo periodo. Ma come al solito c'è la possibilità di tornare un secondo giorno al parco. Per fare questo è necessario registrarsi al punto promo posizionato proprio davanti alla giostra cavalli e se ci passate davanti controllate sempre quanta gente c'è in modo tale da non farlo alla fine quando la coda è assicurata. La tematizzazione del parco è molto curata specialmente all'ingresso mentre le zone già tematizzate dei personaggi sono rimaste praticamente invariate. Per mangiare il Festival delle Scope Magiche è il posto perfetto per provare le specialità di Halloween ma non solo per il pranzo è ottimo anche per fare merenda. Nei periodi con alta affluenza le giostre più belle arrivano anche a 45-55 minuti di coda. Per questo vi consiglio di valutare il Leopass in modo da saltare le code e fare più giostre. E' a pagamento per adulti e bambini a partire dai 90 cm di altezza. Ma le code non sono solo per le giostre anche per gli spettacoli alla Leorena. Ad esempio per lo spettacolo delle 14 e 15 questa era la coda già presente alle 13 e 30. Se arrivate 15-20 minuti prima potreste trovare già la coda piena e non riuscire ad accedere. Come al solito appena entrati al parco prendete subito una mappa in modo da consultare gli orari degli spettacoli e degli incontri con i vari personaggi. E non perdetevi le baby dance con Leo e Mia in giro per il parco. Sempre a tema Halloween la possibilità di fare dolcetto scherzetto presso il palco della zona cowboy. Le giostre con acqua quando siamo andati noi a ottobre erano ancora aperte ma ricordatevi di portarvi un poncio o un cambio per non tornare a casa malati. E per concludere con il gran finale non perdetevi la parata con tutto il cast artistico e i personaggi. Noi l'abbiamo guardata proprio dall'ingresso davanti al pentolone magico ed è stata molto carina. Nel complesso direi ottima esperienza di Halloween all'Eolandia. I bambini si divertiranno ed è adatto anche ai più piccoli che non avranno paura. Solo streghette buone e tanto divertimento. Se ci siete già stati fatemi sapere se vi è piaciuto. Se avete delle domande scrivetele qua sotto al video. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, lei Enrico. 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 Grazie a tutti.